Ragazzi, Eric è completamente impazzito, sta combinando un casino, ha intenzione di svuotare la casa Tante cose ci sono? Ma lo so, non le abbiamo mai toccate, ah, piano, 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 piano Eric, ti posso aiutare? No, no, mi lascia Eric, ma ti aiuto, aspetta, lo scendiamo insieme Eric, non c'è bisogno Eric, ma... Non puoi scendere tutto da solo Eric, se ti fai male pure da fermo, figurati scendendo delle cose Ecco, ecco, lo sapevo voi, lo sapevo voi Ragazzi, qui, qui Eric, è tutto a posto È tutto a posto Guardate, a me non sembra a posto Ti vuole far aiutare, dice che deve fare tutto lui perché tanto ce la fa e bla 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 Dove stai andando con questa porta gigante? Da lì, a qui, sotto È l'avvento Eric, che succede? È tutto a posto? Basta, non mi dico, non ti la faccio al Perù Em, in realtà, lì dentro ci sono altri 2850 miliardi e mezzo di cose Nooo Ma poteva essere un cavaliere della tavola rotonda Eh? Va bene, dai Eric, dai dai dai, facciamo il rotolare No, 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 che rotolare? Vi, vi, rotola, rotola No, 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 no Dominic, ma dai, questo pure È quello che savo io come skateboard Infatti, infatti È il caso che compriamo uno skateboard normale Sì, se proprio lo vuoi Ok, 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 basta, basta Buongiorno ragazzi Sì, io sono Eric E io sono Dominic E chi siamo? Le dillo, chi siamo, Dominic? Ed siamo Ed siamo, sì, ed siamo Stai rubando la scena Dominic, questa è la mia scena No, Dominic, questa è la mia scena No, stavolta ballo io Tu hai ballato per strada Sulle sfice pedonali Sui muretti Ovunque Sì Ora tocca a me Ma adesso dobbiamo fare qualcosa di molto più importante che ballare Infatti questo è un giorno In cui scriveremo la storia dei D'Insieme E di questo canale Sono dieci mesi che abbiamo aperto questo canale E da dieci mesi registriamo dei video nella stanza che tutti voi conoscete Che nel tempo ha un po' cambiato aspetto Anche se adesso si sta rivoluzionando E diventerà più bella che mai Ma questa è un'altra storia Il fatto è che c'è una domanda che affligge gli insiemini da tutti questi dieci mesi Una curiosità che oggi finalmente sarà svelata Tutti sapete che nella nostra stanza ci sono varie porte Ma ce n'è una in particolare Quella vicino al letto Che prima era marrone, adesso è bianca Dalla quale sono uscite tantissime cose Ma che nessuno sa realmente cosa c'è dietro Tima, se tu scendi dal gradino Io come faccio a registrarti mentre sali e scendi? Stai ferma Dietro Ok Tutti voi ci chiedete se c'è una stanza Se ci sono altre stanze E soprattutto cosa c'è all'interno di quella stanza E noi finora non vi abbiamo svelato nulla La verità è che in quella stanza C'era praticamente tutto E niente C'erano tantissime cose Ma tutte per lo più inutili Ma, ma, Dominic potresti scendere per favore? Le scene che avete visto Prima In cui Eric scendeva a varie cose per la scala Erano appunto tutte cose che venivano da quella stanza E credetemi Se voi non ne fate parte Dovete assolutamente farne parte Iscrivetevi a questo canale Attivando la campanellina E lasciando un bellissimo like a questo video Diventando anche voi di Dinsemini Entrando a far parte di tutte queste avventure Fate queste tre azioni Mentre noi andiamo a casa Ma ci potevo andare con le mie gambe Eric C'è un grillo Eric Aiuto Andiamocene andiamocene Ok cammina con noi Stiamo andando un passaggio Ma un passaggio per dove? Scusi grillo Lei dove deve andare? Quando scende? Alla prossima Grillo Biglietto prego Biglietto prego Ma almeno la cintola la metti La sicurezza prima di tutto Anche tu la devi mettere Sto portato il grillo Eric non se ne va veramente Eric io non scendo finché lui non se ne va Lo sai vero? Ma che dobbiamo farci? No se mi salto addosso Io mi spavento Non mi sto proprio inoscendo Hai seguito? No sei pazzo Chiudi 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 Sentra sei pazzo Chiudi Chiudi Ma sentra non è che ti morde No tu sei pazzo il grillo No mi salta di sopra Ciao grillo com'è no? Oddio Cos'hai fatto? Cos'hai fatto? Che buonare? Guardi io ho fatto male Guardi io ho fatto male Cos'hai fatto? Sei pazzo Eric Eric aspetta Eric Aiuto mi sono incastrata Eric cosa hai fatto? Come hai fatto ad attivare Mi ha fatto Mi ha fatto È vivo Sì è pazzo Ma sei impazzito? Ti hai attivato il tergicristallo Non l'ho fatto a posto veramente Io lo volevo salutare Mi sono appoggiato nel coso del tergicristallo E l'ho attivato E l'ho fatto così Però è vivo Sì è vivo L'ho visto volare Guarda Lo stavi ammazzando Eric lo hai fatto volare con un colpo di tergicristallo Non l'ho fatto a posto Poverino Sarà stato come uno schiaffo Uno schiaffo Ho preso a schiaffo un grillo Andiamo 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 Torniamo a casa allora Torniamo a casa Senza grillo No ragazzi Io non l'ho fatto a posto Non volevo veramente Può tornare Può tornare tutte le volte che vuole Io sono qui Basta tranquillo Ti crediamo Lo so che non avresti mai fatto del male A quel povero grillo Anch'io Anch'io Non vedo l'ora Finalmente Non ci posso credere Hai fatto un volo incredibile Sei andata a finire contro la porta Non sei caduto nemmeno io Ieri mentre scendevi tutti quei mobili E cadi adesso Che non hai nulla Eric No non c'è qualcosa Ok Guardi i ginocchio Ragazzi ci siamo Siamo nella nostra stanza Di cui ancora non potete vedere nulla Perché ancora c'è un bel po' da fare Ma questa è la porta State per entrare Nella seconda stanza Della casa dei d'insieme La seconda stanza dei d'insiemini Andiamo So che sicuramente la prima cosa che vi è saltata all'occhio E' lui E' il nostro fortino di bicchieri Già Vi ricordate quanto tempo e quanta fatica ci abbiamo messo per farlo Solo che giustamente l'abbiamo fatto all'aperto E poi visto il mal tempo Per poterlo salvare Abbiamo deciso di entrarlo qui dentro Ma per farlo abbiamo dovuto Tagliare un po' dei pezzi Però si può sempre ricostruire Potremmo ricostruirlo Sistemarlo E tenerlo qui Oppure distruggerlo Prendere due mazze E distruggerlo tutto Potremmo anche farlo Voi che dite? Che ne pensate? Lo teniamo o lo distruggiamo? Così facciamo così tanto forza Che qui dentro ci facciamo un campo Esatto A buona scelta Fatecelo sapere nei commenti Oppure potrei fare parte del portino Che? Che hai detto? Oppure potrei fare parte del portino Questa opzione Lasciamola stare Comunque Come potete vedere Un'altra cosa della stanza È questo armadio Che abbiamo sempre usato Per tenere tutte le nostre sanfrosaglie Giusto Erik? Sì E anche il nostro cibo Dai facciamoglielo vedere Non mi sembra il caso Erik non mi sembra Erik non mi sembra il caso Non mi sembra il caso Dai Dominic Devevo vederlo Oggi vediamo tutti i segreti Siete pronti? Non vi spaventate però Non siamo disordinati Uno Due Tre Chiudi 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 Allora qui ci sono Le candeline Chiudi 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 Pure tu Chiudi 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 E qua c'è il nostro cibo Sì 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 Ma Erik basta Chiudi Chiudimi qui dentro Ciao 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 Erik non ci puoi entrare Erik Erik stai mangiando Io non ho parole Scusatelo Basta Lì ci sono vari scatoloni Sempre con altre Ciambrusaglie Che ancora dovremmo sistemare Erik puoi smetterla Stiamo facendo vedere La nostra stanza Qui c'è una stufa Ma vabbè Questo non è importante E qui c'è un'altra porta Che chi ci segue Avrà capito Nel tempo Che porta al bagno Però non è il caso Di farvelo vedere Sì perché Forse è delle cose Che non siamo riusciti a buttare Sono nascoste lì dentro Erik ma lo dovevi dire questo Non posso più fare la pipì Domenica io lo devo dire Sì Ma ma Non posso più C'è tutto C'è un mondo sopra È tutto impegnato Ragazzi È una cosa temporanea questa È una cosa temporanea C'era molta molta roba Da buttare Non ce l'abbiamo fatta A levare tutto Ma lo faremo Sistemeremo Sistemeremo Silenzio Devo fare la pipì Erik Non la puoi fare la pipì Però te l'ho spiegato Non puoi fare la pipì Ma l'ho vendita Stamattina Dominique Spostati Glielo devo fare vedere No 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 Spostati 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 Non puoi Non mi vergogno Non puoi Erik non puoi Dominica No Riley, non . No . Possa la sita a siena in questo momento. No. Erick, basta. Come faccio? Come faccio? Non doveva andare così questo video, voi non dovevate vedere questa cosa. Ancora lo sistemeremo, solo che non ce l'abbiamo fatta oggi. Dai, cosa faccio? Erick, possiamo continuare il tour della nostra stanza segreta? Ci sei continuamente apposta. Stavamo dicendo, continuando voi avrete sicuramente notato una pietra enorme, tutta fatta interamente di vetri, da cui entra tantissima luce, da cui possiamo vedere fuori anche se, insomma, quello che vediamo sono antenne. Antenne, antenne, antenne ovunque, antenne ovunque! Però, se guardate bene, oltre le antenne ci sono le montagne. Sì, vabbè, oltre le montagne c'è l'America, ma che vuoi dire, amico? Ho scoperto di fantasticare con l'immaginazione, però, se noi buttassimo a terra quella terrazza e anche quella casa che c'è... Ma, 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 Dominic, che stai dicendo, Dominic? No, scusa, no, no, ma, ne fai qui un po'. Casa, state tranquille, ma tu sei pazza! No, i vicini, state tranquille, state tranquille, state tranquille. Ma non solo, anche qui abbiamo una bellissima finestra, con una bellissima vista muro. Eh, sì, sì, diciamo che le viste in questa casa non sono proprio il massimo. Dominic, ma che c'è contro questo muro, scusa? Niente, ma è un muro! Qui ci sono altri scatoloni con altre ciamataie, che sistemeremo un giorno. E qui ci sono altre cose che abbiamo preso dall'altra stanza, perché gli stiamo facendo lavori. E vedremo come si stava da meglio. Vi ricordate? Era da un po' di video che non li vedevate. Ma qui vi starete sicuramente chiedendo, sin da quando abbiamo aperto questa stanza, cos'è quello? E in effetti ce lo chiediamo anche noi. Questo è la cosa più strana, la cosa più curiosa, la cosa più bella che abbiamo trovato in mezzo a tutte le ciamataie che erano qui dentro. Questo qui è un oggetto fantastico, con cui farci tantissime cose. No, Eric. È un bellissimo carrello, ad esempio. No, Eric, no, no. Ma non è solo questo. Questo qui è decisamente un baule gigantesco. Dominic, io direi che è un forziere, è uno scrigno. Sì, esatto. È una di tutte queste cose, ma soprattutto è enorme. Ma, cosa ancora più importante, questo qui è chiuso a chiave. Abbiamo provato a capirlo, in tutti i modi, a forzarlo. Abbiamo cercato le chiavi, ma non c'è modo di sapere che cosa c'è qui dentro. E il fatto è che è anche pesantissimo, ragazzi, si fa molta fatica a muoverlo. Deve essere pieno. Sì, ragazzi, questa cosa mi sta dando il tormento. Abbiamo un forziere pieno e non possiamo aprirlo. Non sappiamo come aprirlo. Non c'è la chiave per aprirlo. Qui rendete conto di cui dentro potrebbe essere giù un tesoro. Voi non avete idea da quanti anni questo forzino è chiuso qui in questa stanza. Chissà chi l'ha rendito. Chissà che cosa ci hanno messo dentro. Eh sì, ragazzi. Questa stanza erano davvero anni e anni che non veniva utilizzata prima di noi. E quindi, di conseguenza, anche quel baule è chiuso. Non viene aperto da anni e anni. Ok, ci penso io. Eric, che fai? Eric? Devi smetterla di entrare da quella porta con un martello cigliante. Devi smetterla, Eric. Non è possibile. Non puoi distrungerlo. Tu sei mazzo. No, no, no. Non esiste. Stai fermo. Dammi. Dai a questo. No. Molle. Molle. Me lo scordo quanto è pesante. Quello che dobbiamo fare noi è assolutamente cercare le chiavi. Magari le chiavi potrebbero essere nascoste insieme a tutte le altre cianfusaglie, in qualche scatola, in qualche nascondiglio segreto, dietro qualche mattonella. No, 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 no. Non intendevo questo. Dobbiamo fare molta attenzione. Chi ha chiuso questo baule e ci ha messo dentro qualcosa, chiudendo la chiave ovviamente era qualcosa di prezioso, qualcosa a cui teneva molto. E avrà sicuramente conservato con cura la chiave. Bene, allora sarà questo il mio obiettivo. Troverò quella chiave ad ogni costo. E poi ragazzi, secondo voi dov'è questa chiave? Aiutatemi. E poi, Eric, che inutile. Hai visto quanto è resistente? È tutto inferno e ricoperto. Non faresti altro che ammancarlo e magari rovinare quello che c'è dentro. No, rovinarlo no, rovinarlo no. Che costruzione è la chiave? Troviamo questa chiave. Ok ragazzi, abbiamo finalmente svelato uno dei misteri più grandi di questo canale. E poi inoltre da oggi abbiamo una nuova stanza dove poter fare tantissime cose. Ovviamente ancora è vuota, ancora dobbiamo levare un bel po' di shampoo staglie. E poi potremmo riripingere anche questa, comprare tante cose nuove e renderla molto più allegra. Ovviamente tutto questo è sempre insieme a voi, fate sapere cosa ne pensate e se vi piace questa stanza. E abbiamo anche un baule supertigo, che però è chiuso. Ok ragazzi, fateci sapere che cosa ne pensate di tutte queste novità. E lasciate un bellissimo like se vi piace, noi se vi siete divertiti anche oggi insieme a noi. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, attivate la campanellina. E seguiteci anche su Instagram, ci trovate come dinsieme.official. E oggi ci vediamo. Emanuela Geal. Bridgeta Oliva. Domi F. Carla Ballone. E Giulietta Amato. Ciao ragazzi, spero che non per tutti quanti voi. Ciao bellissimi, buon bello, buon bello, buon bello. E noi ci vediamo domani con le sue video. Ciao!